In vista del capodanno si fa sempre più incessante l'attività di controllo che le fiamme gialle esercitano sui propri territori di competenza per togliere dal commercio illegale botti e fuochi d'artificio che si potrebbero rivelaere pericolosi per l'incolumità delle persone se venduti liberamente. Sono ben due le operazioni di questo tipo che nelle ultime ore hanno interessato il territorio calabrese, una portata avanti dal comando provinciale di Cosenza e l'altra da quello di Vibo Valenza. Nel primo caso i finanzieri hanno tratto in arresto una persona che deteneva illegalmente circa 140.000 fuochi d'artificio del peso di una tonnellata estremamente pericolosi in un garage di una palazzina a tre piani situata in pieno centro nel comune di Corigliano. Questi botti, tra cui moltissimi di fattura artigianale privi di qualsivoglia requisito di sicurezza, erano custoditi in un ambiente angusto all'interno di confezioni non ignifiche, tanto da dover far intervenire il personale specializzato per mettere in sicurezza l'aria. L'uomo che gestiva questo improvvisato spaccio di materiale pirotecnico è stato rinchiuso nel carcere di Castrovillari. A Vibo Valenza invece sono state denunciate tre persone titolari di altrettanti esercizi commerciali e sequestrate circa 340 kg di fuochi d'artificio. Le tre attività commerciali esponevano per la vendita ingenti quantitativi di articoli pirotecnici in mancanza dei titoli autorizzatori per la vendita degli stessi. Inoltre li avevano stoccati accanto a materiali infiammabili, pertanto in pericolosissime condizioni di sicurezza. Per questo motivo sono scattate le denunce e i sequestri.